Benvenuti su Matteo Giulianci, il tempo previsto per venerdì 9 novembre. La perturbazione giunta nella giornata di mercoledì e di debole intensità insisterà ancora sulla parte del nord Italia, soprattutto sulla regione di nord ovest, ma con eventi di poca intensità e di scarsa rilevanza. Ma andiamo con ordine, come potete vedere nella giornata di venerdì, delle nubi al nord, Toscana, Lazio, Isone e Puglia, qualche pioggia intermittente debole sulle Alpi centro-occidentali, la possibilità di qualche temporaneo temporale sulla Liguria. Vi saranno probabilmente delle nebbie sull'Emilia, sulla bassa Emilia soprattutto, sul Bolognese. Le temperature saranno ancora al di sopra della media, di 3 o 4 gradi, tanto che le massime saranno ancora prossime a 20 gradi, ma inferiore a 20 gradi su gran parte dell'Italia e le temperature minime notturne saranno ancora al di sopra dei 10 gradi. Termino qui, un caro saluto ancora da Mario Giuliaci.